Musica Cresce la preoccupazione per il futuro dell'Aer. Sull'azienda, la provincia di Avellino ha posto questioni importanti, a cominciare dalla dotazione chilometrica del trasporto pubblico locale, evidenziando che non si può perdere un'azienda che opera sul 90% dei chilometri percorsi giornalmente dagli utenti. C'è grande attesa per l'incontro in Regione. Oggi pomeriggio c'è una riunione in Regione alla quale cercheremo di capire le prospettive dell'Aer, visto le ultime vicende che si sono create sul territorio. La situazione non sia delle migliori, fermo restando la solidità dell'azienda e il proseguo dei lavoratori, che nulla e nessuno rischia il posto di lavoro. Il problema è la prospettività di questa azienda territoriale che sembra voglia essere traslata altrove. L'appartenenza al territorio dove si perderà un'altra azienda, come è anche successo alle altre fabbriche, che non apporterà più a questo territorio. E poi soprattutto che le aziende che verranno a fare trasporto verranno ad investire, non certamente ad avere un trasporto sociale, così come previsto dalle Costituzioni.